Il calcio amatoriale seguitissimo e molto praticato, è il momento delle finali qui di seguito con la stessa passione dei canonici campeonati della FGC. Il torneo calcistico open a 11 d'eccellenza è ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di calcio della nostra provincia e dalle giuste soddisfazioni alle società piccole ma ben organizzate e molto competitivi. Il titolo di campione provinciale CSI è stato vinto quest'anno dall'alito cartotecnica Ivaldi Curtatone, allenata dall'ex professionista Virginio Raldi, il quale ha vattuto in finale la Viglioni Castelgofredo per 1-0 grazie alla rete realizzata da Luca Vallarina il 21esimo. Una finale seguita da moltissimi spettatori al comunale di Castelgofredo e che ha messo con frutto due ottime squadre che si sono fronteggiate a viso aperto, equilibrandosi molto. Ora si attende il campione dell'altro comitato, l'ISP, che sarà deciso nella finalissima che andrà in scena sabato 1 giugno allo stadio Dalino Martelli anticipata della finale di Coppa di Lega.